ho iniziato diciamo così la la mia avventura su youtube parecchio tempo fa e non sapevo neanche io da che parla sinceramente e alla fine io ci ho provato è andato avanti ne so contento ma traguardo anche se il pul piccolo che sempre parliamo di numeri piccoli rispetto all'universo appunto la piattaforma è un grande risultato per me ci sono voluti anni c'è avuta la costanza c'è avuto anche il silenzio certe volte e tanta 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 voglia di fare tanta voglia anche mettersi in gioco il sentire pareri contrastanti di tutto sentito come sentite adesso da st'altra parte di tutto è successo però oggi lo voglio festeggiare e mi dispiace delude tutti quelli che mi hanno fatto anzi mi hanno consigliato il set da utilizzare per questa rasatura mi dispiace non avervi accontentato però oggi ho detto voglio fare testa mia così come iniziato nel 2016 scusate il casino che c'è stavo oggi è una giornata un po particolare quindi festeggiamo sti 50.000 con qualcosa che non mi sarei mai aspettato di andare a riutilizzare nuovamente anzi nuovamente per la prima volta perché è una marca che non mi ha utilizzato e c'è anche a precisare che ti devi vedere un attimo la mia faccia quando ho deciso di appunto prendere sto materiale per testarlo quindi te lascio le immagini ti avevo detto che devo festeggiare 50.000 no? guarda quando sto? ma chi mo fa fa? quando ti dico che non scherzo scherzo non scherzo allora ti ho detto che volevo fare una cosa estrema e una cosa estrema forse l'ho fatto aspetta che tra le altre cose ecco allora più estrema di così se more gel da barba della mi se si dice così come si dice io non lo so e poi altra cosa bella cioè l'ho pagati aspetta allora 1,99 e so 20 20 da soi e quest'altro ho pagato 1,49 quindi questi 50.000 mi sono costato poco queste gialli eh però io c'ho una paura c'ho una paura vabbè a vedere quello che succede e allora niente stiamo qui e hai visto che ho preso io ci rido cioè ci rido ripeto non vuole essere un un video discriminatorio discriminatorio nei confronti di chi utilizza sti prodotti e lungi da me è semplicemente una mi fa strano utilizzare sta roba perché sono abituato a prodotti differenti saponi da montare rasoi di sicurezza e ritorno ogni tanto su questi mi mette un po di ansia sì perché quando li utilizzavo li utilizzate ripeto sempre la stessa fila strocca che era che mi trovo il viso pieno del brufoletto il giorno dopo un po di irritazioni a certe orte mandava bene certe orte non mandava bene ma oggi non posso parlare dei costi eccessivi vabbè andiamo subito a vederli tanto l'hai visti non è un pacco de pasta non lo è ma senti che rumore che fa allora eccolo qua eccolo qua oggi una moto di lusso è ricchezza totale come si pronuncia sto nome nisce nisce allora sono di sono dei bilama un euro mi sembra canto pagare un euro 99 euro 99 sono 20 e la cosa l'occhio mi è andato a finire sai dove sul paese di fabbricazione vengono fatti in vietnam e anche la torco viene fatta in vietnam quindi non so se sono fatti dalla torco o meno anche perché per esempio l'euro spin che sta giù in in calabria dove due anni fa sono andato a comprare appunto un multilama era della torco qua è difficile ritrovi quindi potrebbe essere però qua andiamo a leggere bene nello specifico quello che ci raccontano ma vogliamo parlare del gel da barba calo è vero una felicità mamma mia un po capì e che devi fare e il bello è che qua sotto non c'è nulla cioè se tu guardi sotto guarda non c'è nulla cioè il mio classico armamentario non c'è la metta un certo pennello non c'è sta ma c'è una cosa che forse dopo utilizzerò senza meno che è il remetius remetius è un tonico per il viso al cetriolo e alla dove sta scritto amamelite cetriolo amamelite serve a pulirsi al viso serve anche per sfiammare il viso e serve per rigenerare la pelle logicamente ci ti fa una sorta di cura quindi devi utilizzarlo per più giorni e siccome è nuovo se mi capita il fastidio lo vado a applicare non metterò dopo barba perché se utilizzo lui preferisco visto che lui va abbastanza emoliente andare a mettere qualcosa come l'alcol che mi secca il viso non avrebbe più tanto senso quindi una rasatura come la dico e come la vivo sempre un po' in bianco e nero una cosa un po' così ma famose durisate però perché se no sembra che mi ha morto qualcuno allora eccolo qua c'ha la striscia emoliente ci dice aspetta che so pure un po' ce ne vedo pure poco quindi allora l'angolazione e la dimensione della testina del rasoio non si buono non so come si dice assicurano una piacevole rasatura facilitata dal nuovo manico lungo antiscivolo che permette un maggior controllo vabbè andiamo a vedere però qua ti dicono pure come smaltirlo allora il sacchetto poi l'etichetta poi si vabbè la pasta mi dispiace solo che senti rumore io ho iniziato con sei lame dell'aerosmith ecco che faggiano perché l'ho aperta male guarda che faggiano c'era il blister c'era il blister qua la fascettina che riteneva io ho fatto come un animale ho tirato via tutto quanto quindi faremo un video su come riposizionare i bilama ecco ecco manco stesse carica un fucile ecco eccoli qua neuro 99 che fai nico allora altro punto è il gel gel leggevo un pochetto l'inci ripeto io sono proprio un esperto di chimica ma c'ha la paraffina e c'ha pure i parabeni ma al di là di quello che uno sai la polemica le cose di qua di là non la voglio fare però comunque vediamo cosa mi offre vediamo allora cosa importantissima è bagnare il viso ti giuro me sta a prendere male perché non vedo niente qua sotto me sta a prendere veramente male l'acqua calda leviamo sto pelaccio e mazza che bella festa di 50.000 guarda un po' là dietro che c'è sta qualcosa è cambiato quindi il prossimo video non sarà su questo ma sarà su quello che ci piace a noi e ho letto pure dei dibattiti oggi sui commenti roba seria per quanto riguarda il tonico di gotpalla smile dopo te lo leggo proprio perché c'ha delle specifiche se mi ricordo te le legge tutto quanto molto particolari allora che si faceva una volta no aspetta torniamo sui dibatti c'è gente che dice no ma mi trovo benissimo la schiuma qui nessuno ti dice che non la devi utilizzare io non la utilizzo più perché a lungo andare me rovina il viso e perché mi piace fa quello che faccio quindi il montaggio il pennello i profumi tutto 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 allora andiamo a vedere che succede intanto della c'è sta una guerra boh non so manco io ma che è in gel vedi c'è come funziona ah tipo quella della giletta che più ha più tu fai così e più te se monta quindi non è schiuma è gel profuma dai non è profumo non è cattivo certo non è proprio di quelli raffinati però mi manca il pennello mi sta manca tanto di carità cioè così invece mette il bassano dopo barba no sto coso però sai che ti può aiutare a fare cioè questo gesto cosa ti può aiutare a capire il verso del pelo quindi devo compattare il più possibile è il bello di 50.000 oh me si è montata a mano me si è montata a mano e vedi che lascia poi delle parti scoperte mo al di là di tutto mo sono pure stancato e tendenzialmente ste creme sono diciamo così abbastanza scivolose mediamente anche perché se tu la frizioni così sentite un po' che tende comunque così a non dica a seccarsi diventa un pastone una cosa un po' di gesso un po' di stucco cioè non no e levate manco se levano certo se i dai una mano con l'acqua può essere che te sarti allora sarà la mia rasatura più breve più veloce più più corta e andiamo a testare questo bellissimo rasoio della misce vado a allora è il colosseo oggi qua è il colosseo magello che chi entra chi esce è il colosseo cioè di vaporosa è poco cioè quando mi viene detto no ma io mi ci trovo benissimo ma parliamo così chiaro il top lo vedi praticamente sotto so asciutto non c'è niente quindi l'umidità che c'è nei saponi questa non c'è là amico caro è un dato di fatto è una realtà una circostanza non c'è niente cioè a parte essere in gel che poi è bello perché è molto scenico ma che è sta roba chi è? ah pure macchiato innaggia la fama ci mette un po' di acqua perché sennò sta secco proprio così un po' di acqua giusto per perché sennò cioè scivola su un stucco tanto vale fa una saponata a stucco con buon sapone ah ecco qua un po' di acqua mmm no la prossima volta sai faccio la ceretta proprio ma ci diverto più emocionante. no devo sciacquare anche la soglia perchè se sta un pastacone non ce lo fossero domani, ma è una cosa sconcertante però eh ah c'è pure picchio con me quindi tra un po' sentire pure l'abbaglio fidate tanto ormai oggi è la casa dei rumori ammazza come attacca, attacca proprio tiè mi sono pure aperto no ma non è possibile con la soglia così quello moderno il bilano un corpo di loro eh tiè guarda qui oh sta a far più passate io che un terci cristallo quando piove nooo c'è sto mettendo più tempo con questo coso che con classico rasoio di sicurezza eh c'è una guarda le bande tiè guarda che passate con tutto fa e il sangue che sgorga oh beh insomma il bbs è in sogno detto proprio francamente è proprio veramente in sogno qua zonamento devastato come se non ci fosse un domani passate controvassate niente più di questo non ce va allora perché io vi consiglio di utilizzare i saponi i saponi con le creme da rasatura perché è tutta un'altra musica non mi potete dire che questo non dico il bene ma te fai una rasatura veloce pratica di che che esci con la barba attaccata comunque perché dimoste cose aspetta che mi esce al corviso va bene che parlavo del bilano eh quindi voglio dire gli stessi risultati ce l'ho avuto anche con la gilette diciamo che è leggermente performante la gilette rispetto a questa però non è perché devo parlare per forza male eh sia chiaro è mio giudizio personale cioè c'ho ancora sotto vedi quante passate devo fare è troppe sono troppe passate che sto fa allora più di tanto non ho sofferto devo essere sincero quello sì però lo scotto non lo pago oggi non lo pago domani domani sarò pieno comunque di qualche bollicina che mi darà fastidio ti faccio vedere la barba quant'era anche se era pochi giorni pochissimi giorni devo dire che purtroppo in alcune zone è rimasta vabbè dai vabbè ormai è andata l'ho fatta dai in quanti sono cancellati allora parliamo poi il nocciolo del discorso cioè 18 minuti e fammi una barba con la il gel il gel e che cosa e il bilama poi mi dicono ah no perché te ci metti una vita e io vado più rapido poi ognuno se la deve come gli pare può andare pure a tre piotte può andare a velocità della luce ma il problema è la qualità se la qualità della rasatura è bassa il viso ne risentirà poi ognuno di noi ha un viso differente quindi ognuno di noi ha il suo modo di appunto di rispondere a determinate rasature però sinceramente rimango molto fedele e contento alle mie creme i miei saponi i miei pennelli i miei rasoi veramente molto 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 allora andiamo un attimo a parlare del tonico perché io di tonico fino adesso ho utilizzato soltanto uno ma è per soprattutto per dopo rasatura quindi un tonico serve a rigenerare il viso questa volta con il eccolo qua Remedis Remedis allora abbiamo il cetriolo dell'Himalaya perché il cetriolo non ride il cetriolo si utilizza nella cosmetica tanto e sto a parlare a serio allora perché noi dobbiamo a parte beh giustamente viene consigliato l'applicazione con il dischetto mi muoio siccome si strucca proprio con il sapone il dischetto non ce l'ho quindi quando quando me lo vado ad applicare sicuramente lo andrò a tamponare sul viso senza esagerare allora dopo il primo utilizzo la pelle si sente nutrita e rinnovata la pelle si sente linita ed equilibrata poi se lo utilizzi per una settimana c'hai la struttura della pelle appare più liscia il tono della pelle appare uniforme i pori appaiono ridotti perché questo va a togliere anche un po le macchie del viso io sinceramente ripeto lo voglio utilizzare inizio oggi ci faccio una settimana e vado a vedere che cosa mi crea in viso se effettivamente mi da quel non dico l'ingiovamento perché con me il miracolini può fare nessuno però ha pure la mamelis che è un aiuta la pelle infiammata e ridata e rovinata possiedere tanti proprietà antiossidanti che possono aiutare a proteggere la pelle dai danni se applicata localmente ok quindi andiamo a utilizzarlo andiamo ad utilizzarlo scusa sto a legge tranquillo senza problemi detergenti lenitive tonificanti astringenti e quindi tanta roba astringente va a chiudere il poro quindi male non ce fa allora metto veramente qualche goccetta però lo devo separare da sete perché sennò non non me cade perché è molto acquoso molto acquoso profumazione leggera leggerissima leggerissima cetriolo non è che ti senti tipo un'insalata però ne metto pochissimo non metto after perché sennò vado a distruggere la pelle io già lo so non brucia non c'ha alcol quindi vai tranquillo io ho tamponato e farò per una settimana sta prova è come se fosse dell'acqua un tonico rinvigorisce la pelle prima sensazione la pelle comunque già non è che ha subito grandi traumi sta abbastanza bene ma la sento un po' più sedosa con un altro goccettino se lo mettiamo qua perché ce l'ho bisogno di un goccettino eccolo qua senza poi strusciare troppo il viso perché già l'ho devastato più lo tocco e più lo rovino non lo vado a massacra sto viso allora considerazioni finali prima cosa ripeto grazie a te grazie a tutti quanti voi che siete veramente tanti e state diventando sempre più tanti e ho voluto spezzare un attimo il festeggiamento tradizionale classico e quello fatto di tante risate tante magari diciamo così mie espressioni un po' particolari l'ho fatto in una maniera un po' più viva cioè quello che ho sentito te l'ho rappresentato qui ripeto non voglio offendere nessuno questa rasatura ci tengo perché poi purtroppo la malignità di alcuni arriva subito e ho fatto vedere come una rasatura diciamo considerata veloce pratica poco costosa per quanto riguarda me amante della tradizionale non mi ha trasmesso nulla veramente nulla e mi dispiace dover dire che anzi smentire chi dice no ma loro hanno fanno scorrere bene tu prova a mettere sulle mani e fai così poi vedi quanto scorre effettivamente per quanto riguarda il rasoio insomma non grandissima profondità ma questo è dato dalla geometria dalla fisicità del rasoio stesso che non ti permette di giocare con gli angoli cosa che noi possiamo fare con i sciavette con i rasoio di sicurezza con mano libera quello che vuoi perché puoi gestirti l'angolo puoi giocare tantissimo devo dire che guarda certo mi muoge e fa piacere perché qua sotto come vedi c'è ancora una metà dei veri non c'è niente quindi ci metto due secondi e ripongo ma non lo so mi mette un vero anche di malinconia sta perché ho fatto dei ragionamenti prima ho detto ma mi fa pensare tipo quelle persone magari anziane che stanno da soli o comunque non hanno tanta tanta forza per farsi la barba e questo forse il rimetto è un po' più indicato diciamo così non lo so ma ho preso un attimo una cosa così comunque oh grazie a tutti devo dire che piacevole la sento più elastica ho tergiversato per vedere il risultato non dico subito ma che cosa mi lasciava questo questo Faisal Toner Toner a me piace chiamarlo tonico devo dire tonico Remedies come degli anni vabbè come dico sempre buoni acquisti e buone sbarbate e grazie veramente a tutti quanti voi per il seguito per l'affetto che mi avete dimostrato in tutto questo tempo anche dei fedelissimi che mi seguono da quando ho aperto il canale si parla veramente dei anni non sapevo neanche di che parlare boh tergiversavo così e devo dire che sono veramente contento questo non fa di me il migliore questo fa di me una persona contenta una persona contenta che ripeto si è messo in testa degli obiettivi ma non non l'ha mai messi troppo davanti alla sua vita nel senso che si l'obiettivo c'era ma ho vissuto sempre come tutte le persone del mondo con tranquillità a discapito che dice che sento un vip o una cosa del genere quindi grazie a tutti quanti mi auguro che non te sei iscritto te sei dis iscritto perché se te sei dis iscritto per questa cosa ahhh te vanno il plasticone mio dove vai quindi grazie a tutti quanti io chiudo qua anche perché sono 26 minuti penso che ti sarei rotto anche abbastanza le scatole e grazie del cuore e buone acquisti buone sbordate mi raccomando a schiuma a carnevale